Sì, ritengo indispensabile dover intervenire in questo dibattito perché si sentono dire delle cose veramente particolari. Innanzitutto, tipo che noi abbiamo promesso che in un anno arrivavamo al 70% della raccolta differenziata. Questa è una falsità che ovviamente nel dibattito viene detta perché in realtà noi ci troviamo a aver detto che nel 2021 vogliamo raggiungere il 70% della raccolta differenziata. È ovvio che si stanno mettendo in campo delle strategie importanti per cercare di risolvere il problema dei rifiuti di una città molto complessa che è stata lasciata senza impianti, con delle difficoltà enormi. Adesso, visto che giustamente, io credo che sia stato giusto, in alcuni interventi si è parlato, ma qual è la prospettiva? Quali sono le soluzioni? La prospettiva è che per esempio adesso stanno partendo una raccolta porta a porta delle utenze non domestiche. Parliamo di ben 85.000 negozi, riteniamo che entro novembre tutti 85.000 saranno serviti. Riteniamo che nel 2019 solo questo, solo il porta a porta per le utenze non domestiche può fare un balso in avanti anche di 10 punti alla raccolta differenziata a Roma. Questo è un aspetto molto importante. Per costruire sulle macerie che abbiamo trovato ci vuole del tempo, cambiare le strategie, bisogna programmare. La programmazione ha bisogno di tempo e in questo tempo abbiamo anche progettato un nuovo porta a porta che stiamo portando avanti nei municipi sesto e decimo. In questi municipi entro la fine dell'anno riusciremo a servirli completamente. Per cui non è vero che non si sta facendo nulla, ci sono delle difficoltà oggettive per le strade per tutta una serie di ragioni. Non ultima anche la delibera marino, quella che ha bloccato le assunzioni e che noi a breve sbloccheremo. Per cui ci ritroviamo nella difficoltà oggettiva che c'è, ma si sta facendo una programmazione, si sta facendo un lavoro di base, bisogna costruire le fondamenta. Le fondamenta sono l'aspetto più importante della costruzione di un percorso e in questo percorso ora le fondamenta le abbiamo costruite e riteniamo che nel 2019 possa essere un anno importante per aumentare la raccolta differenziata e arrivare al 2021 al 70%. Per cui io invito a non speculare su questo argomento. Questa amministrazione l'ha scritto in maniera chiara nel piano industriale che il salario bisogna chiudere nel 2019. È un impegno forte, importante. Ci rendiamo conto? Oggettivamente è vero che in questo momento è in difficoltà, è vero che siamo sostanzialmente fermi sulla raccolta differenziata, ma l'importante è costruire la base per raggiungere questo risultato. E questa base la stiamo costruendo. Per cui nel 2019 noi abbiamo preso questo impegno nella cittadinanza. Non era possibile dirlo prima, non era possibile, proprio per le difficoltà che ha questa città, ma questo impegno noi intendiamo rispettarlo e lo abbiamo detto tante volte. Ed è per questo motivo io personalmente comunque mi asserrò a questa mozione. Grazie.